Un vasto incendio è scoppiato stamattina intorno alle 11 ad Alserio nell'ex Filanda di Via Carcano. Una donna di 82 anni, Anna Maria Mambretti, era stata soccorsa dai vigili del fuoco in gravi condizioni per un arresto cardiaco. Dopo essere stata affidata al 118, è stata trasportata ad urgenza con l'elicottero all'ospedale Sant'Anna di Sanfermo della Battaglia, dove purtroppo è poi morta. Il rogo è divampato da un appartamento al terzo piano dell'edificio per cause ancora in corso di accertamento. Sei in tutto le squadre dei vigili del fuoco intervenute per domare le fiamme da Como e dai distaccamenti di Erba e Cantù. Nel pomeriggio erano ancora al lavoro ad Alserio per le operazioni di messa in sicurezza. In Via Carcano sono arrivati anche i colleghi del nucleo investigativo antincendio per cercare di stabilire le cause. A supporto delle operazioni, la polizia locale. Sono state evacuate tutte le persone bloccate nell'edificio. In totale sono state soccorse altre otto persone, età compresa tra i 20 e gli 85 anni, per intossicazione da fumi. Sette sono state trasportate per accertamenti negli ospedali di Lecco, Erba e Como. Un'altra invece è stata valutata e medicata sul posto. Complessivamente in Via Carcano sono arrivate due automediche e quattro ambulanze. Purtroppo, come detto, l'anziana già soccorsa in gravissime condizioni non ce l'ha fatta. Dalle prime indagini, sembra che il robo sia scoppiato proprio nell'appartamento della vittima, la donna avrebbe fatto in tempo ad allertare i vicini e chiedere aiuto prima di sentirsi male. L'appartamento in questo momento è sotto sequestro per consentire gli accertamenti. Altre abitazioni della palazzina risultano inagibili per i danni causati dalle fiamme e dall'acqua utilizzata per spegnere l'incendio.